In questo periodo abbiamo imparato ad usare guanti e mascherine protettive, a rispettare la distanza sociale, a rispettare la fila e pensiamo che questo basti per proteggerci da batteri e virus che sono in agguato ad ogni passo. Ma non è così, non basta. I vestiti che indossiamo sono pieni di ospiti indesiderati che è necessario eliminare appena barchiamo la porta di casa. Come? Con i prodotti che tutto il mondo sta importando proprio dall'Italia. Eccoli! Dalla Farma Verde il kit igienizzante per proteggere la vostra famiglia che oggi potete avere ad un prezzo lancio speciale. 3 igienizzanti plus più un igienizzante spray più un gel mani igienizzante. 5 prodotti ad un prezzo davvero speciale. E in più in omaggio per voi le straordinarie super spugne multiuso in silicone, igieniche, antibatteriche e riutilizzabili. Rimuovono incrostazioni ogni traccia di sporco, non trattengono residui e odori. Non graffiano. Ideali per pentole, padelle, forni e materiali delicati. Lavabili anche ad alte temperature non si rovinano. Ideali come presina per il forno e grazie al silicone utili per aprire con facilità i barattoli più ostinati. Ottime per le pulizie di casa perché con le loro setole elettrostatiche catturano polvere e peli dei nostri amici a quattro zampe. Un kit pensato dalla Farma Verde per sanificare tutta la casa, dalle piastrelle ai tessuti dei divani, persino ai vestiti che indossiamo. Con Farma Verde Plus sanificate tutta la vostra casa, saloni, cucine, camere da letto, camerette, bagni. È ideale per case di riposo, bar, parrucchieri, estetiste, palestre. Per ogni attività dove ci sia affluenza di persone e anche per sanificare l'interno della vostra auto. Quando ho scoperto e iniziato ad usare questi prodotti non mi sono sorpresa che avessero un così grande successo in tutto il mondo perché Farma Verde è un'eccellenza italiana specializzata in prodotti per l'igiene degli ambienti e della persona. Ma conosciamo uno per uno i prodotti del kit igienizzante Farma Verde. Igenizzante Plus, a base di estratti e derivati vegetali, particolarmente indicato per sanificare ogni tipo di superficie che pulite durante le pulizie quotidiane. Con l'Igenizzante Plus eliminate ogni forma di batteri ed impurità, ad esempio da questo bel divano in pelle. Ma come fare per esempio per igienizzare le tende o eliminare acari e batteri? Prendete l'Igenizzante Spray e lo spruzzate sulle tende senza paura perché è un prodotto naturale che non le rovina, anzi dopo saranno belle e profumate. E lo stesso dovete farlo con i vestiti e le scarpe che indossate quando rientrate da una passeggiata. Eliminate batteri a virus. Difendete la salute di tutta la famiglia. E non dimenticate l'utilità del gel mani igienizzante che avrete in omaggio da usare in ogni momento della vostra giornata, che asciuga con rapidità e che mantiene la pelle idratata e morbida. Ero tantissimo confusa perché tutti i momenti ci dicono che dobbiamo igienizzare la casa e non sapevo proprio che cosa fare. Poi in tv ho visto questa bellissima cosa che si chiama Farma Verde. È fantastico, non lo lascerò più. In più mi hanno regalato queste meravigliose spugnette, super spugna. Ve lo consiglio, sarete contentissime. Amiche, chiamate per informazioni e per non perdere il nostro omaggio per voi. Le straordinarie super spugne multiuso in silicone, igieniche, antibatteriche e riutilizzabili. Dalla Farma Verde il kit igienizzante per proteggere la vostra famiglia, che oggi potete avere ad un prezzo lancio speciale. 3 igienizzanti plus, più un igienizzante spray e un gel mani igienizzante. 5 prodotti ad un prezzo davvero speciale. E in più, in omaggio per voi le straordinarie super spugne multiuso, in silicone, igieniche, antibatteriche e riutilizzabili. Non l'hanno detto neanche in pubblicità, ma ho ricevuto in omaggio anche lo spruzzino. Amiche, provate il kit igienizzante della Farma Verde per proteggere la vostra famiglia. Oggi lo potete avere lo speciale prezzo lancio che vedete. 3 igienizzanti plus, un igienizzante spray, un gel mani igienizzante. Chiamate per informazioni e non perdete questa offerta Farma Verde per dare sicurezza alla vostra famiglia.